Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo passate su fifacoin.com e con il codice GRANANAS avrete il 15% di sconto This is crazy, I use my number So call me maybe, so call Dumbia Bella vecchi travi Questa è una maglietta che ha fatto la storia a riccione Allora ragazzi oggi ci sono gli Oscar di foot e c'è una trollata pazzesca perché c'è Dumbia C'è Dumbia che è un Oscar Vabbè sicuramente è stato votato perché è buggato su FIFA, non per i meriti sportivi Penso, spero, perché sennò Qua dietro c'è la mia sedia che vedete quella bella Perché non la uso, molti lo chiedono sempre Perché se non c'entriamo, non c'entriamo un 2 quando facciamo i video qua Quindi non la uso quando facciamo qua perché se no non c'entriamo questa è molto grande Quindi è per una postazione unica, non è per due E' carino anche il jeans poggiato così tipo stile morto Ma si ma sti cazzi E ragazzi quindi Fermo, che cazzo fanno Non sono io che inizio E il bravimo che c'è che inizia Basta, andiamo Basta, che era, basta Allora non ci sono i pacchetti da 25 mila Non ci sa perché nonostante ci siano i cosi, gli Oscar Ma questi terminano fra 6 giorni quindi ce la prendiamo comoda Si quindi uno al giorno uscirà Tu lo sai che il bravimo che quando è andato via di casa Si è girato verso il padre e ha detto Ora sei tu l'uomo di casa Allora Allora Dopo tutte le stronzate Hazar Hazarr Giibologi Winneri The Griezman Incredibile incredibile guarda quanti rari mai trovati tutti questi oro rari insieme? no infatti c'è a meno che i pacchetti da 100 mila c'è solo la i trovavi oh e qua ti regalano i soldi oggi me la sento buona oggi me la sento buona lì l'ho trovato tutti ho trovato i toz questo è il più buggato di tutti lui è buggatissimo non ci piace le skill bernard anisio caldera duarte white white d'usanti dubbia guardiamo dubbia io non voglio dubbia ma proprio neanche dubbia non c'è intanto troviamo un dubbia da roma attenzione dubbia no gundo incredibile rosa dai quanto vale non so comprare nessuno porca troia oh gundo beh assordi si assorbi assoluta un po' di meno vai dubbia samba prod mai trovato questo tu hai mai trovato prod che ben comincia ben alfa che perché queste cose ci sono sulla schiena ma guarda che ci stanno a trovare questi cazzo davvero un fatti era fantastico era cosa che bella del mondo bene comunque con co cif c 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 ti dico ciao perché perché dubbià dubbià bojan stekelemurje la panda fa genova bojan chi molla dubbià 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 ramos credibile che non vale una credibile vale lui vale quindi ce lo mettiamo attenzione abbiamo trovato parane che mi viene parane navas il potere più forte al mondo davas jammat johan mandiamoli tutti scartati perchè ci fanno schifo come le cagate che facciano no no vediamo stiamo cercando dubbià lo troviamo cerchiamo di trovarlo il pacchetto si apre e non troviamo il numerico cazzo fernando andiamo ad aprire grisban l'ultimo che aprirà cagliassi poi passiamo ad altri commentatori perchè grisban il po' che porta bene il roba trova bravo ha trovato grisban è bravo ha trovato grisban è bravo ma dai pacchetto ma dai da lucidità ha preso da la la che cocorre ahahah ora abbiamo trovato da di biii di biii di biii di biii demotro a pirlo aspetta che bagni vanno a cercare i video dei bagni ritagliate tutto quello che c'è pirlo pirlo la lucidà la lucidà di aprire questo pacchetto tutto alabah alabah lo apre salat 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 ma 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 apriamo questo pacchetto fabio fabio apriamolo perchè guarin e valencia ma non lo so fabio dovrei rivederlo e no e no riluminare una carriera incredibile fantastica no fabio si è buttato no queste cose riluminano il calcio e england e zan zan sta per finire la partita tra poco tu ti prende un decaddo e diuf tu ti prende un decaddo fabio eccolo l'ultimo pacchetto l'ultimo pacchetto l'ultimo pacchetto l'ultimo pacchetto wow e ragazzi niente per questo un oscar l'abbiamo trovato è finito abbiamo trovato no oscar un oscar rosa un gundokan rosa o scarta oscar si chiama o lo scarto abbiamo trovato gundokan rosa incredibile e non oscar e non l'ho scartato cazzo cosa vuoi io l'ho dormito comunque lasciate 5mila like se vi piace questa lasciate questa vi piace se questo video vi like se 50mila questo video condivide 50mila lacrime la mia vita sarà incredibile muore e niente lasciate 10mila comunque lasciatelo se vi piace e noi ci becciate al prossimo video pure quando cerchi di farla serio non ci riesce bella